Che cos'è Abruzzo Rally Ride che si terrà a Pescara il 16, 17 e 18 settembre? Abruzzo Rally Ride è un evento motociclistico non competitivo. L'unico obiettivo di questo evento è promuovere il territorio da un altro punto di vista, quello del fuoristrada. L'Abruzzo ha dei paesaggi magnifici ma poco conosciuti, perché ci sono dei posti poco conosciuti, pochi abitanti e noi cercheremo di valorizzarli il più possibile. Questo evento sarà distribuito zona nord e zona sud in due giornate, sabato e domenica e cercheremo di visitare e di toccare i posti più caratteristici di questa regione. Ci sono 120 partecipanti da tutta Europa, quindi parliamo di Belgio, Norvegia, Slovenia, Ungheria, Svizzera e quanto altro e in più da tutta Italia, quindi cercheremo comunque di portare tutti quanti questi partecipanti a conoscere la nostra regione. Pescara sarà il quartier generale di questa manifestazione? Pescara sarà praticamente il punto d'incontro, la partenza di queste due giornate ad Ammargherita come evento, il che significa che si parte da Pescara e si torna da Pescara nelle due giornate, sia nel sabato che nella domenica. Questa manifestazione si svolge con il patrocinio del CONI, che ovviamente affianca queste iniziative di cosiddetti sport un po' meno conosciuti. E' veramente con grande orgoglio che ho subito accolto la proposta fatta a me dall'Arrelli Abruzzo, dal Presidente e da tutti i suoi collaboratori e unitamente e quindi con grande grande sforzo anche da parte del Comune si è riusciti a realizzare questa manifestazione e con una grandissima presenza di sportivi, di atleti, il tutto su Piazza Salotto. Quindi riusciremo a far conoscere non solo la nostra città ovviamente ma tutta l'Abruzzo perché così come ha detto già il Presidente la manifestazione poi proseguirà per tutte le strade più belle e i paesi più fascinosi del nostro Abruzzo.